Book 2 A che ora parte il treno per Varsavia? A che ora parte il treno per Stoccolma? A che ora parte il treno per Budapest? Vorrei un biglietto per Madrid. Vorrei un biglietto per Praga. A che ora arriva il treno a Mosca? A che ora arriva il treno a Amsterdam? Devo cambiare? Da quale binario parte il treno? Da quale binario parte il treno? C'è un vagone letto nel treno? Solo andata per Bruxelles. Solo ritorno per Copenhagen. Solo ritorno per Copenhagen. Quanto costa un posto nel vagone letto? Quanto costa un posto nel vagone letto? Quanto costa un posto nel vagone letto? Quanto costa un posto nel vagone letto?